L'alta pressione che ha garantito tempo stabile in quest'ultimo periodo, anzi ha permesso un inizio d'estate con temperature ben al di sopra del normale, ora tende a sfaldarsi, si attenua e quindi lascia campo aperto ai sistemi perturbati che adesso dal nord delle Alpi riescono a penetrare e quindi a interessare anche le nostre zone. È una cosa graduale, questo si vedrà più intensamente nella seconda parte di domenica. Infatti più in dettaglio prevediamo su Trevis e su tutto il Trevisiano, per domani ancora una nuvolosità irregolare inizialmente, poi addirittura delle schiarite, quindi con cielo sereno e così proseguirà per la giornata. Domenica inizialmente una nuvolosità ancora che coprerà parte il cielo, poi dal primo pomeriggio a metà giornata avremo un'intensificazione delle nubi e precipitazioni, precipitazioni che dureranno primo pomeriggio e che all'interno, quindi a ridosso dei rilievi, potranno essere anche a carattere temporalesco. In serata avremo un miglioramento, comunque dicevamo una situazione si è rotta, cambia e quindi anche nei primi giorni della prossima settimana avremo un tipo di tempo abbastanza instabile. Con questa situazione i venti sono deboli, variabili, con qualche rinforzo durante le precipitazioni, con componente da sud, quindi venti di scirocco, le temperature ancora alte, oltre ai 20 gradi le minime, le massime arrivano intorno ai 30 gradi con una percezione molto più forte perché permane l'alto tasso di umidità. L'alta triatica è previsto poco meno.